volevo prendere il cn io, spazio, si è buono di chiaro, c'è qui no, molto Santa Claus e anche il cn è un po' snaus per prenderlo, diciamo di questo, si io ti faccio di questo, può essere che è, però un po' il culo variato perché c'è questo, il pedalino del freno è un po' sdrazzicato, che figata c'è qui una Santa Claus molto snaus, snaus che dire, una giornata diversa prodotto italico hanno fatta, hanno fatta il sale, per esempio il prodotto italico al sale, al forno particolare no, oggi al lavoro, snaus paffa me, mi 10 e l'8, tanto per non perdere l'abitudine, per breve, per il minimo vizietto vizioso, viziante e sacrivanta prima la vita, tutta la vita bella 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 villa